Musica Allora, sono Nicola Di Domenico, sono lo scultore che ha realizzato quest'opera in memoria di Marco Pantani. Brevemente spiego il significato di questa mia opera. I materiali sono il marmobianco Carrara che va ad indicare la sontosità della scultura, l'acciaio in lamiera Corten che invece va ad indicare l'andamento, la sagoma del compianto Marco Pantani. L'idea principale di questa scultura, siccome a me piace nella scultura che interagisca con l'ambiente circostante e con il fruitore stesso della scultura. In maniera particolare questa scultura va ad interloquire con uno degli elementi principali naturali della natura che è il vento. Praticamente con la forza del vento si va a muovere questa ruota e quindi è come se Marco Pantani continuasse a vivere e a ripercorrere le tappe della propria vita, le tappe più importanti della sua vita da sportivo. Grazie. Grazie. Grazie.